Un saluto particolare agli amici di osolanews.it, siamo qua a Montecrestese, fra poco inizia lo spettacolo io sono qua con parzialmente fico perché il mio socio non c'è però si sta riprendendo e vi saluto a tutti quanti non parla ancora ma ce la farà perché noi ci crediamo, stiamo preparando anche un bellissimo film tante belle cose e buono in pentola, io quest'anno sarò a Colorado e quindi tante belle cose questa sera sarà una serata fantastica e io voglio fare un saluto a osolanews.it ho anche il biglietto se non me lo ricordavo buona fine estate a tutti, ciao da Max Fichi d'India ciao sono Scintilla di Colorado e sono molto contento di essere qui, la festa è andata molto bene c'era tantissima gente, devo dire Max Cavallari è stato veramente in gamba, io un po' meno ma per colpa mia che mi sono appesantito per un piatto in più di gnocchi ed un piatto in più di merluzzo al latte era ottimo però poi sul palco si è sentito, saluto tutti, questo è il mio biglietto da visita ci vediamo alla prossima, ciao salve a tutti quelli che mi stanno guardando, noi siamo qui alla Sagra delle Patate qui che si fa tutti gli anni a Monte Crestese, una cosa meravigliosa io praticamente sono nato qui, sono sempre cresciuto qui perché io sono di Monte Crestese, uscita sud però perché c'è anche l'uscita sud come tutte le cose comunque venite numerosi spesso perché qui ci si diverte noi facciamo spettacoli, facciamo attrazioni, abbiamo anche il calciculo bisogna stare attenti perché in questo periodo poi il calciculo quando ne arrivano comunque vi saluto a tutti venite numerosi perché qui gli gnocchi li fanno veramente bene una cosa meravigliosa arrivederci allora siamo qui alla festa della patata di Domodossola dove abbiamo presentato la campagna defibrillazione un progetto nazionale dove abbiamo partner Radio Italia solo musica italiana, RTL, Media Friends, Italia 1, Canale 5, RT4 stiamo portando avanti questo progetto sociale che il defibrillatore ti salva la vita tutto questo riusciamo a portarlo in tutta Italia grazie allo sponsor Interfarmaci Italia stiamo cercando di donare i più defibrillatori possibili e questo grazie all'aiuto della gente cerchiamo di divulgare questo messaggio perché il defibrillatore ti salva veramente la vita grazie questa signorina qua è un artista, si chiama Andrea oggi pomeriggio ha dipinto per noi, per Bruno e per Max perché lui mi ha fatto il segno di continuare di continuare questo lavoro e allora io voglio dedicargli una canzone io non sono cantante, non ho mai cantato ma la canto col cuore è una canzone che voglio dedicarla a mio generico ve la faccio sentire grazie bravo 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 Grazie a tutti. Non fa male ormai, convivendo contenuti, ho inventato nuovi battiti, perché non sentirei affiornare su me. Sembrava questa luce in casa mia, invece perdono già la via. Da soli mai, da soli mai, non girarete qui, se cade prima o poi. Da soli mai, da soli mai. Perché sarebbe come, non è sempre a te.